Ciao a tutti bentornati con il maglioncino di lana perché ho freddo, siamo a maggio ma fuori fa freddo inoltre anche ho un leggero mal di gola, non so per quanto parlerò oggi vi faccio il video delle considerazioni finali sui rossetti che ho utilizzato nel mese di aprile con un rossetto che mi sono sempre dimenticata e credo proprio che inizierò da quello perché questo vi devo proprio fare tutti gli swatches, tutto devo indicarvi perché non me l'avevo presentato nel video iniziale del mese dei rossetti che vado ad utilizzare perché l'avevo preso dopo ed è un rossetto della Rimmel che fa sempre parte della linea Kate Moss ma sinceramente non so dirvi se hanno rifatto questa linea che sono, vi ricordate i rossetti opachi della Rimmel della linea Kate Moss che hanno sia i colori con il pack nero sia quelli con il pack rosso quelli neri non hanno un finish opaco mentre quelli che avevano il pack esterno rosso sì e una mia amica mi ha detto che le ricorda tantissimo un rossetto che lei ha e che io invece non ho perché ho un rossetto sul rosso di quella linea e io invece ho preso al costo mi sembra di 8,90 euro o al massimo 10 euro il numero 610 High Flyer ed è il rossetto linea Kate Moss da 30 mesi di padole e 3,4 grammi di prodotto è un stilo allungato che io ho sinceramente anche abbastanza sfruttato soprattutto il mese era marzo l'avevo utilizzato con i rossetti della Wycon ed è anche un colore nelle mie corde sapete che a me piacciono tanto questi rosa malva con una punta di grigio e ha una consistenza molto morbida pastosa che non secca le labbra e per la durata non si fa tutto il giorno però è un ottimo rossetto per il costo che ha soprattutto quelli della linea Kate Moss a me piacciono tantissimo sia che siano lucidi sia che siano opachi gli opachi anche perché comunque non mi seccano per niente le labbra ve lo consiglio? Assolutamente sì però valutate bene se avete la colorazione dell'edizione precedente e se voi sapete se hanno tolto quelli precedenti per inserire questi fatemi un commento sotto nel video perché io non ho più di tanto guardato non avevo tempo quel giorno mi ero focalizzata su questi rossetti nuovi ce n'erano dai 6 agli 8 colorazioni nuove aggiunte proprio nella parte alta iniziale dello stand e non in mezzo ai prodotti già disponibili in linea permanente e ve lo consiglio comunque per me è stato un ottimo rossetto che ritornerei comunque indietro a prendere certo è che io mi ricordo che i primi rossetti Rimmel li andavo a pagare 7,90 euro e poi con il tempo sono aumentati di prezzo questo mi frena un po' però so che comunque c'è qualità e quindi sono comunque contenta di spenderci tutti quei soldi anche perché di rossetti con quel stesso prezzo si trovano anche delle orribilanti cose in commercio che non vale proprio la pena prendere perciò ottimo vi consiglio di adocchiare questi rossetti ci sono marroncini, rosa, rossi scuri scuri forse uno ma ho evitato perché comunque di scuri ne ho tanti e invece adesso vi vado ad indicare altri tre marchi con dei prodotti che ho utilizzato parto dal low cost che è un'edizione limitata in questo caso perciò vado molto spedita perché o la trovate ancora per esempio nei siti internet come Macchillalia dove rivendono Essence o se no secondo me è molto difficile ribeccare la collezione Winter Glow avevo preso tutti e due i rossetti perché per la prima volta mi sono avvicinata a questo concetto di rossetto con la punta a spugna non avevo mai utilizzato rossetti di questo genere anche se comunque in passato erano già usciti per esempio a me viene in mente Maybelline che aveva lanciato questo genere di prodotti e devo dirvi che trovo un'ottima idea il fatto di utilizzare un prodotto in polvere perché comunque vedevo che il colore era bello, pieno, visibile solo che quello che io posso constatare è che mi fa venire fuori tante pellicine e perciò le labbra mi si seccano anche facilmente un'altra cosa che secondo me può essere positiva è che io avendo tanti rossetti se li utilizzassi veramente ogni santissimo giorno andrei a finirli nel giro di poco anche perché hanno solo 1,2 grammi di prodotto perciò praticamente se l'altro rossetto ha 3,4 grammi neanche la metà cioè ancora meno della metà e ho utilizzato di più il rosato perché comunque ovviamente sapete che utilizzo questo genere di colori per andare a lavoro ma non vi nego che ho utilizzato anche questo e non mi dispiacciono ma preferisco non avere poi le labbra sempre rovinate, sempre secche sempre con i buchi perché mi tolgo le pellicine con i denti lo so non bisognerebbe fare bisognerebbe utilizzare uno scrub ma io non sono solita a farmi lo scrub sulle labbra piuttosto abbondo di burro cacao la notte o anche la mattina prima di truccarmi io nelle mani tengo due colorazioni la rosata e la 01 Melt My Lips vi lascio di nuovo tutti i riferimenti avevo già fatto le registrazioni più da vicino il pow è di 18 mesi e la stessa cosa vale per l'altro prodotto solo che è più scuro ovviamente cambia il nome che è lo 02 Winter Kist e anche questo ha 1,5 grammi di prodotto con 18 mesi di pow ne avrò pagati comunque sicuramente meno di 5 euro se non anche meno di 4 euro Essence è un marchio low cost anche se anche questo marchio negli anni è aumentato di prezzo tutto sommato qualche chicca l'arancia anche lui interessante come questo caso quello che a me fa un po' storgere il naso è che poi dopo con l'andare dell'utilizzo si creano delle scaglie più secche nel cushion quindi nella spugnetta dove praticamente attira il prodotto e poi vi aiuta a stenderlo sulle labbra ho notato che per fortuna la spugnetta non si rompe però tende un po' a piegarsi durante l'utilizzo e ho paura che questo genere di apertura con la vite vitata poi tenda comunque ad allentarsi a rovinarsi pertanto sono dei prodotti che vabbè ci ha speso poco per fortuna ma non consiglierei mai a voi di prenderle anche di case high cost perché il pack è un po' così io sono più per i vossetti classici e vi direi di mantenere quella strada di tanto in tanto ci sta anche questa trovata ma soprattutto vi consiglio di prenderlo a cost in modo tale che se si rompe o avete qualche dilemma almeno ci avete speso poco qui altri tre prodotti di un altro marchio che già conoscete perché vi ho fatto il video di altri rossetti liquidi della extreme make up che avevo preso grazie a un'iniziativa fatta da love buy che io seguo parecchio e avevo visto che avevano lanciato altre colorazioni quindi ho fatto un'altra missione c'era la possibilità avete anche un 10% di sconto se vi iscrivete alla newsletter che comunque se volete aggiungere al prezzo irrisorio di neanche 6 euro quindi ne andate a prendere a quasi 5 euro fate conto vi dirò che questi rossetti nuovi usciti per la primavera sono orribili sì devo utilizzare questo aggettivo sono orribili perché perché allora le colorazioni in sé per sé sono sempre spalsate nel sito internet quindi adesso guardate bene le colorazioni e poi valutate se volete farlo a questo o meno non pensavo fossero così sparaflesciati soprattutto questi due colori vi dirò che inizio a parlare di questo marroncino che è quello che comunque mi ha soddisfatto di più che è il numero 17 questo 17 mi perseguita ed è un marroncino un marroncino che è molto liquido rispetto agli altri e poi tende a oscurirsi leggermente ma non più di tanto e diventare completamente opaco questi hanno una profumazione troppo forte poi questo non è profumo è odore ma non riesco neanche a capire che odore possa essere perché se vogliono farlo tipo simile chocolate come la Too Faced non ha nulla di cioccolato no mi fa molto da vernice chimico ed è un odore che alla mattina presto proprio ti entra e rimane qua però vi devo dire che questo rimaneva sulle labbra non me le bruciava perché gli altri si quindi dopo sapete già che cosa è successo e no questi ultimi rossetti proprio evitati il numero 17 ancora ancora si salva hanno 7 ml di prodotto con 12 mesi di Pau e sono parabens free ma hanno il petrolatum all'interno della Step Cosmetici il marchio è Makeup Extreme Extreme Makeup scusate mi ho invertito quello che metto in seconda posizione è questo che all'inizio mi sembrava fosse un tipo San Germain di MAC poi dopo l'ho utilizzato sulle labbra per fortuna è meglio lo posso utilizzare questo ha una profumazione fortissima di bubble gum di tipo proprio le bubble gum quelle che utilizzavamo per fare le bolle enormi rosate no questo è difficile anche da abbinare e per avere le labbra belle e colorate bisogna comunque fare tante 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 passate con il rischio di fare evidenziare tanto le rughette delle labbra il numero in questione è il 16 ho sempre 7 ml di prodotto con un paio di 12 mesi e questo però invece non ve lo consiglio non servono delle matite per contornare questi prodotti perché dopo si asciugano subito ed è una nota positiva ma vi consiglio i colori scuri tetri opachi e molto dark anche della edizione natalizia o invernale quella che vi ho mostrato nel mese di febbraio e il prodotto che boccio categoricamente che anche quando vi avevo fatto la presentazione di questi rossetti questo era quello che mi aveva lasciato perplessa perché è troppo 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 liquido e ve lo sboccio questo come profumazione ha una profumazione simile a quello in colorazione marrone e come vedete tende a colare è troppo troppo liquido e troppo trasparente usato la prima volta il numero 13 mi ha fatto bruciare le labbra sull'arco di cupido e la stessa cosa sto riscontrando adesso con lo swatch che mi sta un po' punzicchiando la mano pertanto io questo prodotto lo andrò sicuramente a cestinare perché perché è orribilante probabilmente scriverò anche all'azienda ma è un odioso prodotto che ho utilizzato veramente una volta e l'ho dovuto subito togliere la seconda volta non mi ha fatto problemi però non mi fido di mettermi questa cosa sulle labbra assolutamente no quindi ve lo sconsiglio e infine vi mostro le tre tinte labbra che mi sono piaciute di più in questo mese e anche sta sfruttate proprio tranne questa la più scura ma le altre due veramente le ho usate tantissime cosa che se magari mi impegno con questa che è quella che ho utilizzato di più potrei anche terminarla nel giro di poco secondo i massi essere costante come sono stata nel mese di aprile e sono le tre tinte nuove di Sephora Sephora aveva già lanciato delle tinte che si chiamano Rouge Velouté Creme Lip Satin Son Transfer quindi non sono trasferibili però non sono delle tinte labbra come quelle della Step Cosmetic quindi Extreme Makeup utilizzate a febbraio con quelle di Deborah queste sono molto più cremose e tendono ad asciugarsi con il tempo ma vanno via mentre se volete delle tinte labbra che rimangono lì fisse e non vi danno problemi io vi consiglio quelle di Deborah le Liquid Lipstick Velvet una cosa del genere quelle che sono uscite a inizio anno e che comunque vi ho fatto vedere nel mese di febbraio e casomai vi metto la scheda con il video se volete rivedere quali colori ho utilizzato e comprato questi sono dei prodotti che non mi ricordo se vendono 9,90€ o 12,90€ e li ho presi usati bellissimi tutti quanti trovo molto facile l'applicatore a scovolino anche quello della Extreme Makeup però questo è molto più semplice e non mi piace tanto la chiusura a vite anche di questi perché molto spesso io qualche volta li lasciavo aperti perché non riuscivo a fare lo scatto finale perché magari la mattina ero presa di fretta e magari invece di fare quel giro in più per chiudere il tappo mi mettevo a fare anche altro perché poi quello è il tempo i colori che io tengo tra le mani sono questo viola che ha una punta di grigio che si chiama 35 Bohemian Purple molto carino sulle mie labbra tende a essere un poco più viola mentre ad altre ragazze soprattutto su Instagram che mi hanno commentato a loro diceva che dava più sul grigio ecco io avrei preferito anch'io un po' più sul grigio ma comunque il colore è molto carino ve lo svocio comunque vi faccio anche un bel swatch enorme come vedete è proprio un viola ma è un viola comunque secondo me è facile da portare non è un viola strambo un viola grigio comunque però su di me tende ad essere più viola non seccano rimangono perfette e anche la coprenza è immediata non serve fare 200 passaggi perché non colora subito 24 birth sienna quindi un sienna bruciato infatti questo è un colore molto semplice secondo me che si trova un po' dappertutto colori comunque tutto sommato autunnali sinceramente anche l'ultimo però questi ovviamente questi no a lavoro solo nel weekend li utilizzavo e questo è quello che ho utilizzato tantissimo anche per andare a lavoro ve lo svocio e questo è veramente stupendo quasi un colore delle mie labbra praticamente bellissimo il colore in questione è il numero 13 cioè andiamo da 13 a 17 proprio due numerazioni che a me portano sfiga che si chiama marvelous move però io non riesco a capire se secondo voi è move è malva questo colore qui io non ci trovo niente di malva ci vedo un rosa con una punta di grigio un rosa freddo un rosa cupo vabbè non so vabbè alcune volte le descrizioni dei colori un po' distorgono l'attenzione e ci fanno capire una cosa invece poi è tutt'altro tipo anche il bohemian purple il grigio sì grigio no boh non si sa quindi questi sono tutti i prodotti che ho utilizzato e uno per la prima volta mi capita proprio di cestinarlo questi due li utilizzerò ancora sicuramente perché non mi danno questo effetto bruciato pizzicorio ma un pizzicorio no tipo come rossetti o luci da labbra che andavano di moda tempo fa che vi davano quell'effetto gonfiato alle labbra no era proprio un punzecchiare che andava proprio dentro fastidiosissimo e quando mi sono perfino tolta il rossetto ero rossa sull'arco di cupido quindi ho fatto veramente bene a toglierlo perché non vale la pena assolutamente andare in giro con dei prodotti provare dei prodotti lasciarseli lì e poi dopo rovinarsi assolutamente no e il fatto che comunque un po' anche sulla pelle tenda a darmi fastidio non va bene forse può essere che sia anche dovuto dal fatto del pigmento della colorazione perché con tutti gli altri non mi è mai capitato con questo si vai a capire te comunque non è un rossetto che vi consiglio l'unico proprio che boccio in questo video è questo qui e che vado anche a cestinare tanto io ho le borsette quindi lo vado a cestinare vi ringrazio per aver visto il video vi aspetto nei commenti se volete darmi qualche vostra opinione in merito ai prodotti che vi ho mostrato in questo video e vi mando un bacione ci vediamo nel prossimo video ciao ciao